Termino oggi 35 anni di onorato servizio nella polizia di stato Un abbraccio aspettuoso, Franco Ci vediamo bene Lo considerano tutti un deboli Lui a bocca è sempre tutto L'abbiamo scelto perché eravamo sicuri Cosa c'è nella valigetta? Che non avrebbe reagito Fermato! A me mi hanno detto che non avresti sparato Chi me l'ho detto? Domaro E' il bandello del diavolo Per tutta la vita Ho avuto l'ambizione di essere una persona onesta E' il bandello del diavolo Buongiorno! Grazie.